Questo potrebbe servire più per le braccia, per i muscoli, anche i pettorali. Ciao a tutti gli amici dell'UNSTV e buon allenamento mantenendoci sempre in forma. Ciao a tutti gli amici dell'UNSTV e buon allenamento mantenendoci sempre in forma. Mi raccomando continuate a seguirci perché è uno sport bellissimo e magari cominciate a imparare anche voi. Mi ha stupito davvero. Grandissima forza resistenza e anche equilibrio perché non sei obbligato da un percorso predefinito. Quindi ti puoi muovere agilmente per tutto lo spazio controllando anche i movimenti. Io vi aspetto a Pechino. Spero di esserci e di poter così combattere per qualcosa di importante. Spero che anche voi mi seguiate. A presto! L'attrezzo che preferisco è la Kinesis forse perché ha più possibilità di essere utilizzata in modi diversi. e soprattutto mi ha aiutato molto sulla scioltezza a chiudermi meglio. Che tipo di movimenti fai con il Kinesis? Potenziamento braccia e poi per la scioltezza con la panchetta mi siedo sopra e questa va per terra. Da dietro la gancia ai piedi così mi chiedo a metà. Sei davanti a Kinesis. Cosa pensi di questa soluzione? Penso di una soluzione molto interessante. Per un atleta come io per esempio. Non bisogna avere una forza super, non bisogna essere troppo grosso. Bisogna fare dei movimenti precisi, con una postura precisa, con tutto questo. Quindi questa nuova soluzione per noi siamo molto soddisfatti perché possiamo lavorare in un modo giusto, semplice, bello. Quindi molto contento. Grazie a tutti.